Dopo Temptation Island, la dolce Jenny ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita Vediamo cosa ha fatto la ragazza.Bella, dolce e molto ingenua, Jenny ci ha conquistato tutti fin dalla prima puntata di Temptation Island Dopo aver partecipato alla trasmissione, la 26enne ha deciso di dare una svolta alla sua vita con un cambiamento drastico che ha lasciato tutti a bocca aperta Nessuno se lo sarebbe mai aspettato eppure lei lo ha fatto.Tra le coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, c'è stata quella composta da Jenny e Tony, 26 anni lei e 42 anni lui I due, entrambi siciliani, avevano partecipato al reality in quanto Jenny non si fidava del fidanzato che, anche grazie al lavoro di DJ, faceva un po' troppo il farfallone con le altre Del resto Tony si è dimostrato subito molto espansivo nel villaggio delle tentatrici e ha più volte ripetuto che la fidanzata lo limitava moltissimo e non gli permetteva di essere se stesso al 100% Durante la permanenza della coppia a Temptation, Tony si è lasciato andare con feste in barca e apprezzamenti alle altre donne e ha confessato che prima di stare con Jenny a lui piaceva fare questo tipo di vita D'altro canto a lui piaceva divertirsi ma impediva alla fidanzata di vestire come voleva e di uscire o fare vacanze con le amiche Alla fine, dopo il falò di confronto, Tony ha chiesto scusa a Jenny e i due sono usciti assieme Ma dopo Temptation, sui social, la bella Jenny ha fatto sapere di aver dato una svolta importantissima alla sua vita Temptation Island, decisione soc di Jenny.Decisione scioccanti di Jenny dopo Temptation Island La giovane avrà forse deciso di rompere definitivamente con il fidanzato Tony? Vediamo cosa è successo Come anticipato, dopo il falò di confronto, Jenny e Tony sono usciti insieme da Temptation Island La 26enne, molto innamorata, ha accettato di dare un'altra possibilità al fidanzato Ma qualche giorno fa, sui social, la ragazza ha comunicato ai followers di aver preso una decisione importante Tutti sono rimasti molto stupiti, nessuno si sarebbe mai aspettato tale cambiamento Jenny Guardiano si è fatta notare non solo per la sua dolcezza ma anche per la sua bellezza mediterranea, fisico statuario, sguardo penetrante e labbra carnose Le labbra non erano naturali, Jenny, infatti, era ricorsa alla chirurgia per aumentarne il volume Ma dopo la partecipazione a Temptation Island, la 26enne, non si sa bene per quale ragione, ha scelto di eliminare le protesi alle labbra tornando al volume naturale Il video pubblicato su social ha lasciato tutti stupiti ma questa decisione ha riscosso parecchi consensi Jenny si è mostrata con i lividi, poco dopo l'intervento di rimozione e ha detto, buongiorno a tutti In questi giorni ho fatto una cosa che magari lascerà sconvolto qualcuno di voi Ho tolto le labbra. Ecco qui, questa è la situazione. Ci sono ancora dei lividi, sono gonfie però eccoci qua